Il progetto di recupero e valorizzazione di Castel Camponeschi a Prata d'Anzidonia è stato presentato in Regione. Si tratta del recupero di un complesso medievale dalla Grande Valenza, che sarà finanziato con il fondo complementare del PNRR, con 3 milioni di euro per il primo lotto. Il progetto completo costerà circa 7 milioni di euro. Quattro sono già in cassa, tra PNRR e fondi di ricostruzione. Il resto lo metterà sul piatto il Consiglio regionale, stazione appaltante. Il recupero vede infatti la collaborazione in base a un accordo tra il Comune di Prata e il Consiglio regionale d'Abruzzo. Il castello diventerà una struttura turistico-ricettiva che coniugherà antico, mantenendo però la storia e moderno senza distorcere e che sarà sicuramente di richiamo per molte persone, rivitalizzando il borgo. Allo stato attuale si è in fase leggermente più avanzata rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato perché sondaggi e altre operazioni sono state già fatte. La destinazione di Castello Camponeschi è quella stabilita dal piano regolatore approvato in Consiglio comunale due anni fa, ovvero una struttura turistico-ricettiva. Il progetto prevede la realizzazione di 17 camere, zona ristorazione e negozi artigianali, botteghe artigianali. L'ospirito del PNRR ricade proprio preciso su questo genere di progetti. Il Castello Camponeschi non è solo un recupero architettonico edilizio di un bene importante, ma avrà ricadute occupazionali importanti per tutto il territorio. A fare gli onori di casa è il Presidente e il Vice del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e Salvatore Sant'Angelo. Il Consiglio regionale si pone infatti come supporto concreto e reale al territorio. In estate si andrà a gara entro giugno e i tempi sono certi perché sono quelli dettati dal PNRR. In conferenza anche rappresentanti dell'Ufficio di Costruzione dei Comuni del Cratere, sovrintendenza, struttura di missione. Oltre al progettista, il borgo sarà un grande attrattore con camere, spa e un piccolo anfiteatro. La fine dei lavori è prevista per il 2026. Le tempistiche sono dettate dal PNRR, quindi entro marzo dovevamo dare l'incarico della progettazione per eliminare, cosa che abbiamo fatto. Dovevamo chiudere la conferenza di servizio entro il mese di maggio e il 20 di maggio si chiuderà la conferenza di servizio. Nel mese tra giugno e luglio andremo a gara. Questi tempi sono tutti certi e sanciti dalla spesa che bisogna fare dei piani nazionali di resilienza, altrimenti c'è il rischio di perdere i fondi. Il Consiglio regionale sta supportando l'amministrazione locale di Prada-Anzidonia, che non avrebbe le capacità tecniche per poter fare queste gare così importanti. Ci siamo messi come stazione appaltante a supporto delle piccole realtà, quindi non solo per alcuni di Prada, ma anche per altri comuni del Cratere, qualora ne avessero necessità. Il Consiglio regionale farà la sua parte.